Martino, la guardia è chiusa, la guardia è chiusa, non c'entra, non è importante, ci c'entra che la guardia è chiusa la terra. Sì ora guardia, c'entra, s clever più, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Marti quando colpisci non ti apri. Va bene. Leggero. Bravo Marti. Occhio alla ghigliottina. Vai Peppe. Ok, è uscito. Non c'è più. Non spiegare energia Peppe. Non c'è. Controllalo. Tienelo. Tienelo, tienelo, tienete. Sì, sì. Sennò lui cambia posizione. Ora cerca di ribaltare. O di uscire. Con la tecnica giusta. Sì. Faccio. Peppe, calma. Cerca di usare la tecnica giusta. L'abbiamo fatta anche da tanto. Porta il vagino vuoto. Ok, va bene. Ok, Peppe. Prova ad uscire. Che hai un braccio dentro. Provo Marti. Gli uncini. Gli uncini. Va bene. Anche così. Occhio Peppe. Che brutta la situazione. Poglio il braccio e tirare la panna. Alla tua testa. Marti, com'è possibile che non baci? Poglio il braccio. Poglio il braccio. Poglio il braccio. Anche così va bene. Stop. Poglio il braccio. Allora siamo a 4 minuti e mezzo. Facciamo gli ultimi 30 secondi. E ci permette. Però. Beh, chi è il calcio scomposto? Che cosa stava emmerando? Vai, vai, Peppe. È un patto. Vai, girolo in buono. Vai, Peppe. Prova. Prova a proiettare. Grazie.